Ciao ragazzi! Non so neanche come cazzo si gioca A sto gioco mi dite che ho ucciso qualcuno Esatto! Andiamo Teo vieni Vieni Teo Anche Vorax era vicino a Dima prima E Teo O Teo o Lomba Porca vacca Se sono tutti loro due Oh mio dio Chi cazzo è stato? Figli di puttana Figli di puttana Figli di puttana Bastaghi Gabbo stava scappando per andare a riportarmi Allora Ma perché scoreggia sempre? Guarda Guarda Ok No era ora Ah beh, guarda lì qui. Vedi 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 qua e qua e qua 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 Quanto lo conosco Quanto lo conosco No ti prego dimmi che non mi ha visto nessuno No vabbè ragazzi Sono una cosa esci dalla botola per favore gentilmente Ragazzi ragazzi ho visto Marzia nascondersi dentro la botola sotto la stanza del generatore con il basso a sinistra Non capisci un cazzo Oddio scusami Allora io stavo io e power dentro la stanza Gianco è Marza calamity è nella zona di Stiamo se Gianco nell'angolino Ma mi ha ammazzato davanti a sette persone Chi è che era il di 3 Chi è che è ucciso in mezzo a tutti Non è vero qualcuno veramente ha fatto il macho Allora io ho visto Power e vorax Ma ne frego un cazzo dalle tasche vecchio Io voglio restituire il motore Ma ne frego un cazzo dalle tasche vecchio Ma ne frego un cazzo dalle tasche vecchio non soffievo che erano ah raga non vale no rifamola no anzi rifamola ah ma visto vaffanculo eh che devo fa gabbo gabbo esci dalla botola no fra eh no è perché te l'ho ucciso davanti scusami eh raga raga come te l'ho ucciso davanti raga non sei non è vero ma il keyboard cosa vuol dire? ah puoi usare la ah puoi usare la stiera tu come cazzo stavi giocando fino adesso? ma il mouse sì ma il mouse ti pote ma è fantastico ragazzi ma è fantastico ragazzi mi muovo scardotto ma fa ecco perché lo vedevo confuso si muove da telefono ma sei pazzo ma sei coglione tu ma che cazzo mi spami l'indirizzo di casa online oh no è quella nuova che cosa stai facendo marzo che ho fatto si ma mi sto venuto a scrivere in 8000 l'indirizzo vabbè basta me mancano due persone a blackjack sto con un turbante gigante ho spammato il numero dei cellulari del fazzone che mi ha fatto chiudere la live me fanno sto scher... me devi aspettare mezz'ora marzo devo finire qui ti aspetta sei troppo buono vaffanculo con calma con calma un po' dei resisti... aaaaaa vena aaaaa sottomenalo stonda sto cazzo che sta a fare che sta a fare no 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 non lo so fa non lo so fa è inutile che leggo il tutorial tanto non so buono mi riarzo mi riarzo sta a soffrire chi si sta io gli si attacca un po' capito? gli si attacca un po' il corpo dopo aver fatto un po' d'attacchi capito? sulla testa ehi si torna indietro ehi come mi ha insegnato lui così quadrato ehi tun 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 ma mi ha dato una stecca mi ha ucciso ma mi ha dato una stecca mi ha fatto fuori ma che è sta buffonata dai si ma dai che cazzo mi volevi dare qualcosa pezzo no fammi rialzare te la piande il culo va ma che puoi fare cazzo cazzo il fa zone si guarda la folla lo acclama la folla lo acclama la folla lo desidera lo sfondato a sto campione gli è entrato un colpo fortunato zi gli è entrato un colpo fortunato dobbiamo andare e parleremo più tardi forza balla per me clown si balla per me prego qualche fan che è venuto a chiedermi molto educatamente la foto ed ho apprezzato molto perché ero in vacanza e non volevo che fammi il video delle bestemmie ma seo dedicami un purcanoio ah 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 ma seo perché tu non urli nel tuo audio di gruppo di miei amici che ti segue molto ma seo ah 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 perché tu non fa così ma seo ah 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 perché perché ecco queste cose mi fanno triggerare io sono ineluttabile puttanelle but you must keep going stick it out grazie a tutti